Allora, io vengo da Bari, non l'inquadrante è mio padre e neanche mio fratello, dopodiché, che cosa faccio? L'ha fatto lui. Come lo vuoi l'uomo? Allora, l'uomo ideale l'ho trovato stasera. Prego, si alzi. Scorpione, ascendente, scorpione. Più scorpione non si può. Allora, ero tutta sudata. Mi sono asciugata con il tovagliolino. Dov'è il mio tovagliolino? L'ha conservato! Liban vuole. Questo è l'uomo ideale. E vai, bene.